Eh Raffario, cosa c'è da bere per me? Non preoccuparti, mai mai! Abbiamo tre bibite! Una cannuccia per te Stas, per te Dimon e per me! E io prendo una Coca Cola rossa! E io prendo una 7up verde ragazzi! E io prendo una Coca Cola gialla! Cos'è successo? L'ho diventato rosso! Che cos'è questo ragazzi? Cosa ci sta succedendo? Cos'è successo? Non lo so! Cos'è questo ragazzi? Dove siamo? Vediamo cosa c'è nei piatti! Apriamo! Andiamo! Perché questo cibo qua? Perché Stas stiamo facendo una sfida! Ognuno mangia il cibo di colore diverso! Inizio io! Io ho le cipolle! Oh Raffario, come fai a mangiare questo? Che schifo! È molto buono! No, no, vincerò ragazzi! Ragazzi, ho il peperoncino! Ora lo proverò! Oh mio Dio! Brucia, brucia! Vincerò presto ragazzi! Oh, devo mangiare questo! Non ce la faccio ragazzi! È davvero aspro! Oh! 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 Devo mangiarlo tutto! Oh! 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 Ragazzi, io ho vinto! Ho mangiato tutto! Evviva! Solo gelarmi! Oh! Oh Raffario! Il tuo orecchio è verde! Cosa stai dicendo? È verde! Oh! E il tuo orecchio è giallo! Com'è possibile questo? Ragazzi non ditemi che il mio orecchio è rosso Sì, il suo è rosso Io ne ho uno verde e tu uno giallo ragazzi Cosa? Ok ragazzi non siate tristi, iniziamo il prossimo turno Forza vediamo cosa succede nel secondo turno ragazzi Oh il caviale è il mio cibo preferito Sì E io ragazzi devo mangiare questi broccoli Sono disgustosi Oh mio mio che cos'è che schifo non posso mangiarlo io Che schifo, che schifo Sì, di più, di più Ho vinto, ho mangiato tutta Ragazzi lasciatemi dominare Anche l'altro orecchio è diventato giallo Sì, sì, con noi è successa la stessa cosa Allora ragazzi coraggio Apriamo e vediamo cosa c'è dentro Apriamo Ragazzi sono stato fortunato Ho delle gelatine rosse Ho dell'uva verde E io qua invece ho mango giallo Ragazzi mi piace molto l'uva Perché è un prodotto sano Ci sono molte vitamine Chissà se esiste una persona a cui non piacciono le caramelle gommose Che buono Io sono sicuro che vincerò questa sfida Vincerò anch'io allora Vincerò anch'io Ragazzi abbiamo vinto tutti Ragazzi guardate come sono diventati i nostri colli Bene, vediamo cosa c'è lì dentro adesso Forza Io ho una banana molto buona E io ho l'anguria Io non ho niente ragazzi, perché? Ma Raffario non lo capisci? Io non ho capito, dov'è il mio cibo? Raffario sei un stupidotto, io ho già capito cosa mangerai Cosa volete dire? Spiegatevi per favore, cosa devo mangiare? Raffario io ho mangiato l'anguria rossa E tu adesso mangerai la scorza verde dell'anguria Devo mangiare questo ragazzi No, non posso mangiarlo ragazzi Non è giusto Non ci riesco Ho mangiato tutto Ciao ciao ragazzi Stas vinciamo noi due Bravo Bravo Ragazzi ho perso questo round Ragazzi guardate cosa succede nelle nostre braccia Che schifo Che cos'è? Non lo so Ragazzi andiamo avanti Forza Andiamo Anelli in cipolla con senape Cetrioli con wasabi Ravanello con tabasco Ragazzi tutto questo cibo fa schifo Sappiate che questo è davvero davvero piccante Questa è una pessima idea Raffario Che schifo Oh mio Dio Oh mio Dio Basta Verso un po' di tabasco Così così Oh che schifo Sono le 5 di Mono Ora mangio questo Con senape Con senape No 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 Intenzione di mangiare tutto Non lo farò Oh è disgustoso Lasciami provare Buona fortuna Brucia Brucia come un drago Non ha vinto nessuno Forza al prossimo turno Ragazzi Perché io sembro Shrek E io sono giallo Come Spongebob Sono come un gracchio ragazzi Rosso Prima di aprire Iscrivetevi Così saprete tutto da noi Beh Non lo saprete Ma sarete i primi A vedere i nostri video E noi continuiamo Ragazzi Andiamo E io ho la torta Io ho delle alghe Ragazzi Ed io ho ottenuto la rosa Forza Cominciamo Ragazzi Che schifo Che schifo E questo è davvero buono E io mangerò solo il petalo della rosa Niente male Io devo vincere questo round La rosa è buona Così Così E così Sto andando bene È molto facile Io ho perso questa sfida Ragazzi Easy peasy Ho quasi vinto Ragazzi Guardate le nostre mani Oh mio dio Che aspetto hanno Apriamo Il mais I piselli verdi Un pompelmo Grano turco Ottimo Ragazzi È commestibile Io non lo so Ma adesso vediamo Provo a mangiare il pompelmo ragazzi Perché è così amaro Pensate fosse dolce Brucia tutto Ma che è Io vincerò sicuramente Mi piace Io ragazzi Non ce la faccio più Basta Ho finito E ho perso anche questo round Anch'io Non riesco a mangiarle Molto amaro Ho vinto io Ho mangiato tutto Guardate Oh Cosa Cosa può essere Apriamo ragazzi Wow Un piatto vuoto Un hamburger Non ho niente Finalmente Lo mangerò tutto ragazzi No Cosa c'è Dimon Raffario L'intero hamburger Non è verde Il che significa Che io mi prendo Il pane Raffario E io prendo Solo i pomodori E io mi mangio Il resto Sì No 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 Raffario Tu Raffario Mangi solo La foglia di lattuga Sì Raffario Perché tu sei verde Ragazzi Io mangerò la parte verde Guardate E adesso posso mangiare il pane con No 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 Ragazzi guardateci Siamo diventi dappertutto Sì sono rimaste solo le mani Va bene ragazzi E' meglio andare avanti Va bene andiamo Lo yogurt o la banana I piselli Un melograno Mi piace un sacco lo yogurt Soprattutto se ha il gusto di banana Devo rompere il melograno In qualche modo ragazzi Forza 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 Andiamo E non funziona Arrenditi Timona E' già perso Io posso farcela Sì Io devo vincere questa sfida Ora fai Non sei cattivo E io invece ragazzi Ho quasi finito tutto Gli ultimi grani Ragazzi Io ho finito tutto lo yogurt Ragazzi ho finito Che cos'è Guardate adesso siamo tutti dipinti Credo che la sfida sia finita Quindi se vi è piaciuto Mettete un like Ragazzi assicuratevi di iscrivervi Non dimenticate di cliccare sulla campanella Per non perdere nessun video E ciao 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 Ciao